Prima al ristorante in piazzetta, poi al vicino Caffè de Paris. Doppia festa di auguri natalizi per la doppia squadra della famiglia et al service che in questo fine settimana ha riunito assieme per le festività le due compagini di casa, quella della massima serie di calcio 5 e il Loreto Basket di serie B. Due squadre timonate da due presidenti coniugi, Simona Marinelli, che in estate ha ricevuto il testimone della presidenza di calcio 5 dal marito Lorenzo Pizza, ora al vertice presidenziale del sodalizio di basket. A noi ci piace dare tanto allo sport, ma lo sport a 360 gradi, noi lo viviamo sia da un punto di vista agonistico di prima squadra, ma soprattutto da un punto di vista anche dei settori giovanili. A noi piace questo, a noi piace creare un gruppo di ragazzi, di giovani importante. L'abbiamo creato nel calcio 5, dopo tanti anni siamo arrivati ad avere quasi 300 bambini, quindi 280-290 famiglie che comunque ci seguono, che vengono a vedere le partite, che fanno giocare i loro ragazzini nel calcio 5, ma soprattutto anche abbiamo già 45 bambini che vengono a giocare a pallacanestra nel Loreto Basket, nell'Ital Service del Loreto Basket. Quindi questo per noi è motivo di grosso orgoglio. Quindi ecco, questo è vivere lo sport, io penso, da un punto di vista agonistico, ma anche da un punto di vista umano. È un onore, è un onere importante, in quanto ho ricevuto il testimone da mio marito, che per me poi resta sempre lui il presidente un po' di tutto. È una bella emozione, perché comunque è un bel gruppo. Nel calcio 5 archiviato una stagione complicata, l'Ital Service è ripartita quest'anno con un campionato che la vede attualmente al quarto posto, una posizione che la riallinea ai fasti del passato, quelli che conosce bene capitano Nidandel da oltre un decennio a Pesaro. Quest'anno già sta andando molto meglio, siamo quarti in classifica e secondo me stiamo giocando bene, stiamo facendo un campionato molto bello. Gli anni scorsi non ho manco parole, solo di ricordare, già mi viene il cuore, i batti più forti. Gli anni scorsi sono stati molto belli, di vincere tre scodetti, tre supercoppe, due Coppa Italia. Nessuna squadra ha vinto così tanto in poco tempo nelle storie del calcio 5, per quello secondo me è una roba indimenticabile. Allora, l'obiettivo qua del Pesaro è sempre vincere, quello sì. Tutte le competizioni che intriamo sicuramente per vincere. Ancora, quello che non siamo molto in intesa, siamo ancora, mancano tre partiti per finire l'andata, però le cose sono positive, pochi errori, pochi sbagli. Purtroppo la partita di settimana scorsa abbiamo sbagliato, credo l'unica così, ma se continuiamo così con questo lavoro bene, ogni settimana allenando forte, sicuramente cose buone verranno. Ambizioni e voglia di crescere e di stupire inserite anche nel DNA del Loreto Basket. Una società che sta crescendo, che ha intenzioni serie, per cui essere di Pesaro, avere questa possibilità, non posso che essere contento. Sicuramente è una sfida, se vogliamo, anche difficile, perché c'è tanta concorrenza, il campionato non è dei più semplici, anche la formula non ti aiuta. Quindi nonostante abbiamo costruito, hanno, perché la società, perché io ho solo avvallato gli acquisti, chiaramente dicendo anche chi prendere, però abbiamo preso, abbiamo preso una squadra che sicuramente è una delle, sulla carta, una delle migliori. Poi qualcosa ci è voluto per amalgamarsi, perché tutti i ragazzi nuovi, quindi abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto. Speriamo adesso di averne sempre meno, perché credo che qualche miglioramento, insomma, lo stiamo facendo.